Guardate, se guardate sulla destra, c'è il parco dei pinguini. C'è un pinguino qua dentro. No, però bisogna andare a Polo Norte perché ci piace. Sono per saltare proprio insopra e poi alla seconda parte ho po' basso, però consiglio di non andare. Sì? Dugay mangkao eh. Balay nila nagukit-ukit pa sa ano pa? Isang buong batut? Ayan, ang storehouse na sinasabi nila. Bye! Isang buong batut? Oh, hai�! Non, 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 na. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.